Se la PM barese Desiree di Geronimo non ha molti amici fra i suoi colleghi, sicuramente ne ha tanti su Facebook. Tanto che è nato un gruppo di sostegno per la PM, si chiama Desiree di Geronimo, la gente comune sta con te. In una sola giornata 3.700 persone hanno cliccato sulla pagina mettendo un mi piace e condividendo l'iniziativa. Certo 3.700 nickname, non identità certificate, ma pur sempre una platea virtuale che prende le difese della PM. Di Geronimo potrebbe essere trasferita dalla sede giudiziaria barese per incompatibilità ambientale. Così si legge nel comunicato stampa del gruppo Facebook. Ricordiamo che qualche giorno fa è stata chiesta all'ufficio di presidenza del CSM dai consiglieri di area l'apertura di una pratica per incompatibilità ambientale a carico del PM barese. L'apertura del procedimento disciplinare fa soprattutto riferimento alla lettera che Di Geronimo, assieme al collega Francesco Bretone, ha scritto nei giorni scorsi al procuratore generale di Bari e al capo del suo ufficio mettendo in dubbio l'imparzialità del GUP Susanna De Felice che il 31 ottobre scorso aveva assolto il presidente della regione Vendola dall'accusa di concorsi in abuso d'ufficio. Nella lettera dei PM Bretone Di Geronimo si fa riferimento all'amicizia che esisterebbe fra il giudice De Felice e la sorella del presidente Vendola, Patrizia. Ricordiamo anche che l'iniziativa dei due PM ha provocato una levata di scudi da parte di altri 26 PM della procura di Bari. Ora però il non meglio identificato ma ben organizzato gruppo di Facebook invia una lettera al presidente della Repubblica, al CSM, al ministro della giustizia, a tutti gli italiani e gli organi di informazione. Siamo allarmati per le voci diffuse in questi ultimi giorni su presunti provvedimenti che il CSM si appresterebbe ad assumere per uno dei due PM della procura di Bari di Geronimo, i quali hanno il solo torto di compiere il loro dovere senza alcuna indulgenza nei confronti dei potenti di turno. Noi non siamo tecnici, ne vogliamo improvvisarci tali, si legge più avanti, ma la lettera scritta e pubblicata dalla dottoressa Clementina Forleo a suo tempo, punita con trasferimento da Milano a Cremone e poi reintegrata perché aveva ragione, ci fa capire come stanno le cose e ci convince. Insomma la battaglia è più che mai politica e ben si inserisce nel clima elettorale che già si respira. Da un lato gran parte della procura barese che difende l'operato del GUP che ha assolto Vendola, dall'altro che accusava il governatore pugliese di abuso d'ufficio, supportata dal neonato gruppo Facebook che accomuna la PM di Geronimo a Clementina Forleo in un'epica battaglia contro i potenti di turno.